Una grande azienda, Sisal Sport Italia, che nel 1996 ha compiuto 50 anni ed è cresciuta con l'arrivo di Enalotto, con il grande sviluppo di Tris e con il successo di Totip Plus. Di qui la decisione di lanciare una nuova ed importante campagna pubblicitaria che in un'ambientazione comune promuove tutti e tre i giochi Sisal. Non riesce mai ad andare dal parrucchiere, non riesce mai a fare colazione, consuma decine di Rossetti. Cammina a fatica nell'ufficio dove lavora. Chi è? Un'impiegata della Sisal, così impegnata a baciare i tanti vincitori da non avere nemmeno un attimo per sé. Non un'impiegata comune, ma niente di meno che la dea bendata. A dare corpo alla dea è un'attrice ricca di verde e di simpatia, l'affascinante e bellissima Nancy Brilli, della quale tutto il set si è immediatamente innamorato. Siamo a Cinecittà. I filmati realizzati, parte in teatro e parte in vere ricevitorie, sono stati creati dall'agenzia Armando Testa e magistralmente diretti da Alessandro Dalatri, la stessa squadra che ha prodotto le fortunate serie pubblicitarie con Tullio Solenghi e con Massimo Lopez. E' carina anche la fatica che hai. Aiutate, dategli la palla. E non se c'è si aggira più qua, porca mia, che poi manco me con te. È un momento, arrivo. Butti la palla da qualche parte, è un momento, arrivo e arranchi fino al telefono. Pronto, Sisa? Pronto, Sisa? Ti rendi conto col cronometro? Guarda, lo bacio proprio volentieri. Questo me lo bacio proprio volentieri. Tu sei maniaco, lo sai. Un altro. Un altro. Che gasca. Non posso tocare qui. Mi è stato detto che mi chuncano la maniura. E io. Mi sentiamo a noi. Ma costa trissi o no tre? Carina. Ma costa trissi o no stress. E' troppo poco. Vabbè, era una bella prova, no? Non copri bene. Grazie. Ma chi ha avuto l'idea? Noi facciamo tante cose in coppia. Aspetta, il libro, come i carabinieri. Lui legge e io guardo le figure. Durante le riprese si è verificato un fatto straordinario. In quei giorni, nel concorso numero 42, una scheda Totti per più ha fatto vincere quasi due miliardi. Sarà un caso? O forse è un primo intervento della dea bendata per una campagna che nasce nel filone dello humor, della simpatia e della fortuna? Ho vinto. Ma non ho vinto. Ma non ho vinto. Però con il telefonino lo facciamo. Sì, eh, sì, ne abbiamo molti di questi telefoni perché se incastrato, se incastrato il piede è un po' meglio. Risponde la segreteria della dea bendata. Lasciate un messaggio dopo e mi sono messa la mano davanti alla faccia. E non ci si gira più qua dentro. Guarda, 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 guarda. Momento. Momento, arrivo. Pronto, sisà? L'ufficio di è bendata? Ah, è lei con la Santi. Com'è? Un altro fortunato da baciare. E quanto vincerà? Due miliardi. Ma allora è tutto tipo. Ah, me lo bacio proprio volentieri. Eh, sì, così faccio un po' di pulizia, che bene. Va bene, va bene, vado. Che ora è? Ecco, lo sapevo. Anche oggi niente fa bucchiere. Allora, la cornucopia è lì. La benda... Si, capirai. Falla a trovare. Ma Nela, l'hai bendata? Bendata? Soprattutto, beh. E mi ha baciato. Ma questa è la volta buona che smetti di lavorare. Perché? Cosa fa? Parrucchiere. Per signora? Non ho per uomo. Ah, che sfida. Mmm, fortuna. Tocchip. La fortuna viene giocando. Pronto, sisà? L'ufficio di è bendata? Un altro. Ah, ma sta triste uno stress. È troppo facile. Dov'è? Mi piacerebbe. Aspetta, aspetta, che me lo sento. Lo senti? Qui sparisce la roba. E non hanno tre matite. C'è sirio? C'è salio? C'è? E senza matita? C'è, c'è. Buongiorno. Ma non ti ho già baciato la fagliari? Eh, infatti. Guardi un po'. Bello, d'oro. Eh. Possi intestarei a tempo. A me non hanno tre matite. Tris, la fortuna viene giocando. Pronto, ufficio di è bendata? Ah, è lei con la Santi. Avanti. Buongiorno. No, non dicevo a lei, con la Santi. Metti pure qui. Fa la cortesia, segna che non hai soldi. Chi devo baciare? Ah, è una lotto. Prendi il capucinetto. Vabbè, vado, vado, vado. Beh. Che me lo dà un bacetto? Va, va, va. Allora, ho vinto? Sì, ecco il fatto che è una lotto paga subito. Stamattina neanche un capucino. Ma devi offro cento. Uno basta, grazie. Corrisponde la segreteria della Dea Bendata. Lasciate un messaggio dopo il B. B. A prendere anche una biuscina. E' una lotto. La fortuna viene giocando. Pronto, Sisa? Lupiccio Dea è bendata. Un altro. Tocchit. La fortuna viene giocando. Pronto, Sisa? Lupiccio Dea è bendata. Un altro. Tris, la fortuna viene giocando. Come Dea Bendata sarò impegnata a baciare molti, molti, molti fortunati vincitori Sisa. Nel frattempo il primo bacio è per voi. La fortuna viene giocando.